Ingo! A quanto pare l'abbiamo trovato! Tieniti pronta a scendere, Ellen! Ricevuto, Tom! Non preoccuparti, James. Ti riporteremo a casa sanno e salvo. Sei ferito? Eh, no! Non credo proprio. Tieniti forte, James. Adesso ti tiriamo fuori da qui. L'ho preso, Penny! Tiraci su! Ricevuto, Ellen! Rimani in posizione, Tom! Ciao, zio Sam! Non è ferito, Sam, ma guida comunque con prudenza. Per oggi ha già avuto un'esperienza abbastanza adrenalinica. Ricevuto, Ellen. E non preoccuparti, mi ricorderò anche della gazzosa. Ben fatto, pionieri. E complimenti per quella fasciatura. Sono stato io! Sei stato bravo a imparare tutte quelle informazioni del manuale, James. Ma hai dimenticato quello che c'è scritto sulla prima pagina. Buon compleanno, James. Ti voglio bene, tua sorella Sara. Eh, no, 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 non quello. Alla pagina seguente. Eh, l'indice? No, James. Quella successiva. Oh, eccolo! Mantenere sempre la calma. Sì, sì, esattamente, James. Mantenere sempre la calma. Ti piacerebbe se ti riportassi io fino a Ponti Pandi con la nostra ambulanza, Trevor? Forse è meglio che mi metta io alla guida stavolta, Elvis. E magari ti insegno qualcosa durante il tragetto. Oh, ok, Ellen. Oh, ma posso bere quella gazzosa finalmente?